Dopo un avvio a suon di vittorie, il Foggia di Giovanni Stroppa ormai da un mese ha perso la testa della classifica. Un solo punto a dividere i pugliesi dalla Juve Stabia per una lotta in cima sempre più affascinante. Era stato un ruolino di marcia perfetto, quello del Foggia nelle prime sei giornate di campionato, coronate da 18 punti, zero pareggio e zero sconfitte. Ad ottobre però la musica sembra essere cambiata e se ad oggi il Foggia ha 24 punti, è merito di una netta sbandata del recente periodo dei satanelli. Tre pareggi, una vittoria, una sconfitta ed un'amnesia da trasferta è diventata forse un problema per il Foggia. In casa tuttavia lo Zaccheria resta un fortino inespugnabile, quest'anno nessuna sconfitta, l'anno scorso addirittura una sola a sorpresa contro il Monopoli. Andrea Vibonese, Taranto e Monopoli, le vittime quest'anno dei rossoneri in casa, che però il 9 ottobre hanno steccato per 0-0 contro l'Akragas. Precedentemente il pareggio contro il Matera di Auteri ad inaugurare il periodo negativo per il Foggia, che ha perso per 4-1 contro la Juve Stabia successivamente. L'unica vittoria recente è stata contro il Monopoli nell'ultimo impegno casalingo, prima di presentarsi contro il Lecce in una situazione di stallo. Infatti chi avrebbe vinto sarebbe scappato in cima alla classifica in una gara valevole, tre pesantissimi punti. Alla fine però ha vinto la paura e tra i due litiganti il terzo incomodo Juve Stabia gode con un primato in solitaria unico in questo inizio stagionale. Catania per il Foggia sarà l'occasione per tenere il passo di una cima della classifica che sta tenendo un ritmo elevatissimo e che di certo non può allontanarsi troppo da una squadra costruita per vincere il campionato come il Foggia. Grazie a tutti.